Pensionati, incontro con medici di base, potenziare quella di prossimità. Serve potenziare la medicina del territorio, quella di prossimità. Da quella può arrivare la svolta nel piano vaccinale e velocizzare i tempi per raggiungere quel 70%, primo obiettivo per l'immunità di greggie, pronti a spenderci per diffondere la cultura della vaccinazione. Lo hanno ribadito i segretari generali di SPICGL, FNPC, The Will Pensionati, Valeria Tranchina, Vito Polizzi ed Emanuele Sorrentino, incontrando il presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa, Anselmo Madeddu, accompagnato dal suo vice Francesco Iachelli, e da Giovanni Barone e Riccardo Lomoraco, segretario e presidente della sezione siracusana della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. L'incontro è stato programmato e inserito nel calendario di confronti propedeutici ai lavori del tavolo permanente della salute insediato all'ASP provinciale. La pandemia ha acuito i problemi legati all'assistenza medica di prossimità, hanno ribadito i tre segretari generali dei pensionati di CGL e CISD Will. Ora è il momento di potenziare la medicina di base perché l'approccio adesso sarà inevitabilmente diverso. La gente ha bisogno di rassicurazione, questa può arrivare soltanto da chi li conosce bene ed è quasi di famiglia. Abbiamo confermato che come sindacato siamo pronti a sostenere una battaglia a tutti i livelli, hanno aggiunto Tranchina, Polizzi e Sorrentino. Chiediamo le stesse cose, bisogna ridisegnare l'assistenza medica familiare. I medici di base sono sempre stati la prima linea, il terminale di richiesta e urgenza dei cittadini. Alcune iniziative a livello nazionale non sono sicuramente la soluzione, piuttosto che pensare alle case della salute che pur strutturate non garantiscono l'apporto personale costante tra medico e assistito, si lavori per dare maggiore possibilità di intervento e giusta dignità ai medici di base. Il centro dell'incontro, il piano vaccinale e l'impiego dei medici di base nella campagna avviata. Molti di loro stanno operando nei vari hub allestiti, concludono i segretari di SPICGL, FNPC e The Will Pensionati. Si pensi anche a dotare i loro ambulatori di un numero di dosi adeguato al fabbisogno. Forse grazie al loro rapporto diretto con i pazienti, la ritrosia di alcuni di questi potrebbe essere vinta convincendoli a vaccinarsi. Sicuramente potremmo accelerare la campagna in corso e rispettare i tempi, se non anticipare per toccare il 70% della popolazione vaccinata, primo obiettivo per l'immunità di greggia. Noi abbiamo confermato la disponibilità a sostenere pubblicamente la campagna vaccinale con volantinaggi e altre manifestazioni. Bisogna lavorare in quei comuni dove si registra ancora diffidenza verso il vaccino.